annuncio di lavoro si cerca commesso in un negozio d'abitiamento e questa è buona a tempo indeterminato ma questa è proprio buona vicino alla favola buona non ci vuole mancare la macchina perché? perché tu tieni la macchina? appunto non ci vuole la macchina bella presenza e che è il suo lavoro che fa con me? vado subito! obbligatorio per il Green Pass e la roba che non è che manca la quinta elementare ma perché tu non lo faci questo Green Pass? ehi come non lo faci? ma chi lo è scaduto? ma che non lo faccio? ma ci hai fatto pure la seconda dose? ebbè? e pure chi lo è scaduto? ma tu intelligentemente fatti una lunga conservazione che ho questo che non scaduto capisca? due vaccini non sono bastate ma è uscito pure lo terzo il Super Green Pass ma che stai dicendo? no questo non si va proprio bene ma chiamiamo un giovicienzo perché giovicienzo del luco alto alto ecco ehi ma non mi interessa? ora c'è già parlato pure con chi sta eh? ehm no non ti prendi qua se fai a me non ti prendi un prezzo che lei ti ammette e la cina viva eh? fai a me ti prendi qua qua poi non si sponda che vuoi Carolina? buonasera ti faccio scusate se vi interrompe sempre questo è mio marito vorrei una cosa che cosa stanno proprio buona? su tre anni che cosa non vanno buona? e ora te ne accorgi? no nel senso che vanno peggio hai capito? a quante volte ci hanno matto l'ultima volta non sei capito manco quattro stiamo lavorando su tutto il territorio campano per portare la normalità eh io mi volevo chiedere come prima cosa ti sei fatto il vaccino eh simgan quale hai fatto? l'astrazeneca? no 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 il moderna? no 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 allora il Pfizer? no 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 allora ci sono verità ma l'altra cosa mi ha fatto perchè io mi avevo fatto ricordi comunque a fine là nemmun'altra cosa mi ha fatto perchè andrei con Green Pass dire no? ma non ti rendi conto della gravità della cosa ora il Green Pass serve per tornare alla normalità eh che ti volevo dire? mio marito ti ha fatto prima poi ti ha fatto secondo non è stato terzo ultima modella ma a me non lo dai un prodotto ma che imbecille si vicini niente di meno per me si stucca in basso un'asta ma licenziale ha fatto bene bisogna rispettare la legge e infatti io l'accuso è l'hitta e tu dobbiamo rispettare la legge e poi sono dieci anni che ha fatto di cannigio eh ma se tu non hai mai lavorato e ora la sei pronto con gente ma se ti provi a stare qui sapete bene che la situazione è questa non mi costringete a scendere con lanciafiamme ma amore è digno non mi ha mai avuto la mia figlia che mi ha mai avuto 3 mesi che mi ha voglia di barbiere guardate che è passato io mi sono più male si fa il vaccino e va dal barbiere senza Green Pass non si va da nessuna parte ah se ti diceva che fanno ma stiamo in famiglia Green Pass c'è 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 Green Pass Carolina mi sa che tu non hai capito niente è per una maggiore tutela sanitaria mascherine mascherine ah ma non parlare di mascherine ah ma cominciare tutto bruttare che mutanda staccata in paz le mascherine chirurgiche no uè non sono buone mascherine chirurgiche non devi mettere sono la mia FFFPP2 FFF2 metti me FFF2 non si trova una rotta in Amazon non si trova niente non si trova niente i chirurgici che vanno a bolla ci hanno fatto ieri due anni che i mascherini chirurgici che stanno toccati in pazza 50-58-80000 positive alla fine no non si trova niente ci siamo a mettere FFFP3 no dopo che si trova 150-150-50000 positive pure che è nato non diventa che sta f*** che ha fatto il positivo ma non mi chiamano te ma come stai da cammarca mannaggia stai giù fatti mamma fatti mamma a allora devi si a me assoluto si fa tutti i vaccini possibili immaginati tutto quanto la fa bella e buona vita la gente che sta a seccare la scendellina che sta a seccare la fucchetta che sta a seccare il cuppino che sta a seccare il fiero vedi una calamita e non di meno di ogni ora mio passato vicino a nutrirò il fiero e riempio se la tirò a aprire vabbè che mi fanno il favore ma non sembrano mai esagerati sono tutte sciocchezze dovete fare il vaccino i novax li buttiamo a mare se mi c'è proprio pochissimo ma ci fanno il tuo vaccino perché non ci fanno la prima dose 3-4 mesi la seconda dose 3-4 mesi ma la terza dose non ti dicono che ci fanno la sringa a me non hanno finito l'anno che bene e poi dimmi e capitano oggi 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 a spartare a spartare ecco ma non ho freddo sono tutti usati sti qua perché ma bella buona venata la stagione siamo tutti quanti liberi tu stai andando a frutto le vengono le mascherine le vengono le vengono a stagione da un po' siamo liberi non so già siamo liberi siamo liberi siamo tutti fanno un'altra giornata siamo liberi il mio 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 pote pote